l'ambria detto ore sette e mezza siamo sta venendo scuro andare a vivere nel bosco consigli per chi vuole andare a vivere nel bosco i miei consigli perché il bosco non è una scelta facile nel senso che allora ragazzi se uno non è abituato può essere una scelta radicale perché che ne so passare da da milano uno che abita nei palazzi o andare a vivere nel bosco è un bel salto è un bel salto poi dipende che cosa fate se andate a vivere nel bosco con la compagna con la famiglia con un amico dipende io che preferisco essere isolato mi piace l'isolamento che mi sento noieti mi sento selvaggio preferisco stare da solo preferisco stare qui con questi animali che ci sono nel bosco che non essere accompagnato perché bisogna sempre stare attenti perché l'animale più pericoloso è sempre l'uomo allora vivere nel bosco consigli io vi consiglio prima di tutto di usmare il bosco perché se non siete amanti del bosco cioè del bosco non ho detto della montagna perché un errore che fanno molti è quello di pensare che il bosco montagna il bosco non c'è solo in montagna cioè se andate nella bassa pianura padana oltre po pavese c'è il bosco anche lì e non sei in montagna c'è una zona collinare bisogna capire quanto siete disposti all'isolamento passi sono quasi arrivati perché ormai il sole sta scendendo e tra una mezz'oretta scende sono quasi sette e mezza sono so che ora scende credo otto e mezza allora andiamo su di qui che vado un po' un po' zizzag allora per vivere nel bosco bisogna amare il bosco se uno non ama il bosco e poi io sono amante della solitudine quindi poi io comunque c'ho da fare perché c'è un collegamento io il telefono prende poi c'è il mio computer se voglio posso fare un po' di smart working lavoro lì se devo andare in fabbrica ci vado ultimamente ci devo andare perché quando montano devo stare lì a dirgli che cosa fanno altrimenti potrei anche stare qui a fare i miei progetti qui isolato c'ho da fare vado a fare un giro vedo se trovo qualche fungo qualche che funghi non ce n'è adesso sto preso qua poi se c'erano le castagne vado a fare le castagne faccio mangiare la mia polenta le mie cose mi guardo un bel panorama oggi stasera c'è un cielo che è splendido adesso appena scende il sole lì dietro la montagna c'è una bella rietta mi metto lì leggo un libro mi guardo un video e poi mi addormento tanto io 4 4 e mezzo sono già in piedi e poi scendo tanto non è che ci metto una mezz'oretta sono giù consigli ragazzi consigli per vivere nel bosco è che il bosco lo dovete amare se non amate il bosco è dura poi ripeto io sono nel bosco io sono molto eclettico un'altra cosa ecco che la gente non ha ancora capito che poi io su internet per anni ho fatto l'ambrenedetto ma nella vita non sono l'ambrenedetto sono lorenzo ed è molto differente la cosa guarda che bello qua sopra mamma mia ragazzi vi faccio vedere oggi c'è un cielo blu aspetta guarda che blu ragazzi spettacolo e c'è un blu poi verso Milano c'è tutto c'è una cappa qui veramente blu è un blu spettacolo aspetta vediamo se ve lo faccio guarda che bello anche qua che vista qua bello guarda che bello i boschi si sta da dio allora quello che io vi volevo dire è che io sono molto eclettico a differenza di chi allora prima di tutto io ho un lavoro tale per cui io potrei lavorare qui potrei anche prendere volendo starmene che ne so a Palma di Mallorca faccio i progetti i voli ci sono voli a 30-40 euro quando devono fare il montaggio torno sto qui una settimana 10 giorni poi faccio i progetti un mese io se volessi potrei vivere a Palma di Mallorca potrei vivere dove voglio chiaro non a casa di Cristo perché se devo andare tornare quando installano devo stare lì perché devo vedere cosa devono fare la mia fortuna è che io non mi sono mai dovuto svendere ho il mio lavoro se decido di fare qualcosa e di impegnarmi in qualcosa d'altro ho il mio lavoro quindi questa è la mia fortuna quindi io a differenza di altri ok tecnicamente non mi mancherebbe neanche tanto per la pensione perché ho a differenza di chi non ha mai lavorato e vive con la mamma o che è mantenuto dalla mammina che gli fa il pranzettino che gli dice oh scemo vieni a differenza di questa gente di tanti che sono arrivati a 30-40 anni quanta gente c'è in Italia che praticamente non ha lavora non ha mai lavorato vive a casa dei genitori io sono molto eclettico ragazzi oggi sono nel bosco e domani che ne so che ne so domani magari mi innamoro di Procida e vado a vivere a Procida e da lì lavoro c'è per dirti oppure che ne so me ne vado me ne torno al mio locculo al mio locculo a Ludwig Safen cioè dipende cioè ragazzi io amo il bosco mi piace stare nel bosco però non è che ho vissuto sempre nel bosco ho vissuto non tantissimo tempo fa due anni a Paderno D'Adda mi trovavo benissimo a Paderno D'Adda ero lì da parte al fiume dove c'era il ponte ho vissuto tre anni arrobbiate sempre lì vicino appena scendendo dove c'è la villa di Moratti scendendo sulla destra anche lì non tanto distante dopo anche lì mi trovavo bene andavo sempre lì sul fiume ho vissuto quasi quattro anni in Germania sono stato un anno in Romania ho vissuto in Latvia sono stato in Bielo per lungo periodo dipende ragazzi dipende dipende quello che mi gira quindi oggi sono qui nel bosco il locculo c'è sempre il locculo è un punto di riferimento in caso di di casini perché se domani la situazione mi ritiro qua ho vivere per almeno un paio d'anni da tenere anzi adesso devo portare su ancora un po' di roba scatole di tonno fagioli cibo non deperivo devo portarne su un bel po' però non è detto che io domani vada a vivere mi piace Firenze vado a vivere a Firenze che ne so se decido di fare qualcosa d'altro molti mi mi dicono l'ambre ma ti candidi fai non lo so penso anche che se mi candido la gente continuerà a votare sempre gli stessi quindi la vedo poco difficile che io potrò dare un contributo che una persona come me che lavora si impegna che è capace la vedo molto difficile in quell'ambiente lì dove la maggior parte della gente lì non li affiderei non li porterei neanche inditta da me a fargli tagliare un pezzo a seghetto non saprebbero neanche fare una O con un bicchiere quindi già su quello lì però ragazzi io sono sempre disponibile non è che io mi sono fissato a vivere nel bosco domani mi rompo e che ne so cioè ho sempre il mio lo culo d'altre parti quindi niente vivere nel bosco anche adesso sta scendendo il sole fra poco è ora che mi faccio stasera cosa facciamo? stasera direi che stiamo leggeri stasera direi un po' di pomodori che mi stanno crescendo bene ho fatto l'orto e sono contento quest'anno veramente sono contento ho messo poi quelli ho messo il cuore di bue e quelli ciliegini mi stanno dando bene peccato con i peperoni che non mi sono cresciuti non lo so devo aver sbagliato periodo non lo so quindi facciamo un'insalatina di pomodori un pezzo di pane e del formaggio uno strano che c'è lì direi questo e poi e poi ci guardiamo che ne so ci guardiamo ci guardiamo qualcosina ci guardiamo che ne so qualche qualche d'uno che ha fatto qualche viaggio voglio vedere a me piacciono i video documentari su youtube di viaggi e poi andiamo a dormire che domani mattina mi devo alzare presto che gode la ora vi saluto ciao